Come non poter parlare delle ultime due serie annunciate da Harry e Meghan per Netflix. In realtà come non poter parlare? Potremmo non parlarne perché sappiamo benissimo da esperienze precedenti che quando loro annunciano qualche cosa non vuol dire che poi viene effettivamente prodotto. Tanti sono progetti passati che poi alla fine non si sono realizzati perché non sono stati approvati quindi potrei non parlarne ma vale la pena di parlarne assolutamente in questo caso. Allora due serie, una con a capo Meghan incentrata su Meghan e una incentrata su Harry. Infatti le carriere si stanno dividendo pur rimanendo uniti o comunque sia dando l'apparenza che rimangono uniti. Allora innanzitutto se siete troppo curiosi mi dispiace ma non c'è né data di uscita né titolo di nessuna delle due. Però per quanto sappiamo della serie di Meghan sarà una serie che vuole celebrare le gioie della cucina, del giardinaggio, dell'intrattenimento e dell'amicizia. No, per carità, se lei vuole fare sfoggio di queste sue doti. Perché per quello che riguarda il campo amici sappiamo benissimo che lei è andata perdendo un'amica dopo l'altra. No, vedi Oprah, vedi Serena Williams che però ritorna, state attenti, rimanete sintonizzati. Vedi Tyler Perry, cioè io onestamente sarei molto curioso, ciò non vuol dire che lo guarderò. Per quanto riguarda la cucina, io non so ovviamente come cucina Meghan Markle, non so quante persone possono testimoniare come cucini Meghan Markle, non mi dà l'impressione di una che cucina bene ma potrei anche sbagliarmi. A me questa, chiamatemi maligno, ma mi puzza tanto, ma tanto di marchetta che lei sta facendo a se stessa per pubblicizzare la sua passione per la cucina e quindi American Riviera Orchard. Anche se comunque sia lei ha sempre voluto dare l'impressione, o comunque sia ha sempre parlato, no? Ha sempre condiviso questa passione per la cucina. Se vi ricordate quando era all'interno della famiglia Reale, uno dei suoi primi progetti, se non proprio il primo, fu quello di pubblicare un libro di cucina per aiutare una comunità di donne musulmane quando si bruciò un palazzo a Londra. La seconda serie si incentra sul principe Harry e in particolare sulla sua passione per il polo, perché loro giustamente volevano dare un'impressione di sé, volevano costruire questa immagine, di persone umili, no? Che sono così come due di noi, no? Parlavano di pari diritti, di problemi che accomunano tutta la popolazione e infatti proprio per dare l'impressione di essere delle persone normali ci fanno vedere una serie in cui si va a cavallo colpendo una palla. Uno sport proprio alla portata di tutti. La serie promette di fornire un accesso senza precedenti sul mondo del polo. E io mi permetto di obiettare, se fino al 2024 questo mondo non ha avuto accesso, non pensate che ci sarà stato un motivo. Cioè, è uno sport fra i più elitari che possa esistere. In quanto a popolarità, il calcio lo vede col cannocchiale. Ma poi onestamente, voi ve la seguireste una serie sul polo? Io al massimo mi seguirei una serie sulla polo. Mi racconti la storia di questo straordinario indumento che ha ricoperto i corpi di molte persone nel mondo. Il polo è uno sport che il principe Harry pratica da decenni e lo fa anche a scopi benefici. Infatti, anche a scopo di fare pubblicità per questa sua serie che è in prossima uscita, ha partecipato proprio qualche giorno fa ad un piccolo torneo composto da due partite con il suo amico Nacho Figueras che, devo ammettere, ora, favile sei sempre tu, però è molto Figueras il suo amico. È un giocatore di polo professionista, tra l'altro, buttalo via. Qualcosa mi lascia pensare che sia un buon partito. Per giocare a polo devi avere il mezzo, che in questo caso è un cavallo, oltre che la mazza da polo, quindi. E il principe Harry ha vinto entrambe le partite e quindi ha vinto il torneo beneficenza, beneficenza che doveva andare a favore della sua fondazione Scent Ball, che è stata fondata nel 2006 ed ha lo scopo di aiutare i bambini e giovani colpiti dalla povertà, dalla disuguaglianza e dall'HIV nell'Africa meridionale, principalmente l'Esoto e Botswana. Manco a dirlo, no? Un'associazione che fra i propri obiettivi c'ha quello di aiutare le persone con HIV AIDS. Cioè, il rimando è evidente ed è anche funzionale alla narrativa della coppia, perché questo ovviamente è un tipo di iniziativa che richiama la madre, Lady Diana, che lui ha accanto in quanto si è reincarnata, come sappiamo tutti, in Meghan Markle. Lo dice lei, è certificato. Lei, Meghan Markle, ovviamente non Diana. Tra l'altro, per chi sta seguendo la serie leggendo Sper, siamo arrivati proprio nel punto in cui lui è nell'Esoto. Questa partita di beneficenza, io dico per farsi propaganda, ma è evidente che l'abbia fatta per farsi propaganda, perché loro sono andati lì con una troupe di Netflix, perché ormai sono un abitué, vanno in giro con i paparazzi. Cioè, vi rendete conto del paradosso? Che loro sono scappati, gridando aiuto, aiuto, vogliamo la privacy, sono stati presi per il culo da tutti, perché si rendevano sempre vittime nelle loro narrazioni dei giornalisti, adesso non fanno altro che andare in giro con le telecamere costantemente puntate. Vedi, per esempio, scorsa esperienza in Canada, adesso, per esempio, loro non hanno rilasciato interviste, perché loro giustamente sono royal, però c'erano i giornalisti là, non hanno parlato con i giornalisti, hanno lasciato che a parlare con i giornalisti fosse Nacio Figueroa, loro si sono semplicemente fatti riprendere, probabilmente per girare quello che sarà il contenuto della serie di Harry. Per entrambe le serie, entrambi non sono soltanto protagonisti, stelle, divi, no? Sono anche produttori esecutivi, le serie sono prodotte, ovviamente, con la Archwell Production, in collaborazione con Netflix. Ai giornalisti, Figueras ha dichiarato che spera che questa serie avrà lo stesso successo che Formula 1 Drive Survive ha avuto per il mondo automobilistico. A quanto pare, sempre dalle dichiarazioni di Figueras, Harry è un abilissimo giocatore di polo, gioca da diversi anni, appunto. A quanto pare è molto competitivo, ha un'ottima coordinazione occhio-mano, tutte doti che si ripercuotono, ovviamente, all'interno della sua relazione. Questo torneo di beneficenza si è tenuto al Grand Champions Polo Club, che ti viene la puzza sotto il naso soltanto a pronunciare il nome. Si è tenuto un piccolo torneo con diverse partite, tutte partite in cui Harry ha brillato, ovviamente, sicuramente, niente di preparato, no, 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 ma per carità, non sto... non sto... non penso che siano cose preparate, però, ovviamente, quando giochi per beneficenza e giochi contro il Principerry, che fai? Non lo lasci vincere. Come vi anticipavo, alle partite è stata presente pure Serena Williams, grande ritorno. Vabbè, Serena Williams l'ha fatto per i bambini, non l'ha fatto mica per Meghan Markle, anche perché c'erano state diverse antipatie fra le due donne. Più che al, Serena Williams non la voleva più fra gli spettatori a Meghan. A Meghan ci andava lo stesso alle partite, anche se lei non la voleva. E sono scene quelle dell'ultimo torneo che ci riportano ad un'immagine proprio di mondo Disney, perché Harry ha vinto la coppa e chi gliel'ha consegnata ovviamente Meghan Markle, donando una bellissima immagine di coppia affiatata, nel senso che lei gli leva il fiato e c'è stato questo grandissimo bacio che ricorda secondo me il bacio del loro matrimonio. Lei vestita di bianco, lui sempre più pelato, a quanto pare con questo evento hanno raccolto un milione di dollari. Il polo ha una popolarità nel mondo che gli permette di raccogliere 15 milioni l'anno. E soltanto Centable nel 2022 pare che abbia raccolto 6 milioni che non è poco. È d'obbligo a questo punto ricordare che Netflix ha firmato un contratto con, anzi loro hanno firmato un contratto con Netflix che doveva durare 5 anni, scade l'anno prossimo per 80 milioni di dollari. Finora con Netflix loro hanno prodotto soltanto 3 serie. La famosissima serie documentario se puntate sputtaniamo la famiglia reale, no? Harry e Meghan. La serie Harry e Meghan è stata vista da un milione di famiglie. Poi abbiamo Heart of Invictus quella creata dal principe Harry su Invictus Games e questa serie non ha raggiunto la top 10. Poi abbiamo l'ultima serie Live to Lead Vivi per guidare che non so chi se l'è vista onestamente. Io ho provato a vederle entrambi però personalmente sono molto noiosi. devi avere molta motivazione per guardarle. Quindi queste due serie che arrivano proprio in zona Cesarini ad un anno dal termine del contratto dopo che si è vociferato così tanto che sicuramente Netflix non rinnoverà il contratto con loro perché sono più i progetti che Netflix ha rifiutato di quelli che poi ha deciso di portare in porto mi pare evidente che diciamo queste serie abbiano l'intento di cercare di salvare il salvabile no? Ovviamente queste sono serie annunciate dal sito dell'Archwell Productions cioè ancora non c'è una conferma da parte di Netflix i giornali già ne parlano ma non so quanto la cosa è concreta ci sono stati già tanti tanti articoli di giornale su progetti passati progetti che poi alla fine non hanno visto la luce quindi staremo a vedere ovviamente cosa succederà con queste serie anche perché nel frattempo bisogna tenere anche l'occhio su American Riviera Orchard come sta procedendo come si sta sviluppando già a me viene la confusione soltanto a pensare di tenere l'occhio su entrambe le cose io non so come faccia lei ad accumulare impegni su impegni loro che per la Archwell Foundation lavorano un'ora settimana in due mistero della fede non dimenticate di lasciare un like un commento mandate questo video ad un amico io vi mando come al solito i miei saluti reali e ci vediamo alla prossima news che è dietro l'angolo non si riposa mai con stil royal e ci vediamo grazie a tutti